Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Dio mio quanto mi siete mancati. Io ho avuto un periodo veramente, cioè lasciamo perdere, lasciamo perdere. Penso che in questi giorni, soprattutto in questi ultimi periodi, ci siano cose ben più importanti a cui pensare. Insomma, mi mancava tantissimo fare dei video, avevo preparato tantissime cose dal mio compleanno, del Natale, avevo regali qua e di là. Purtroppo ho avuto una sfiga, ve lo dico velocemente, mi sono entrati in casa e mi hanno distrutto tutto. Quindi apro e chiudo parentesi, quindi non ne voglio neanche più parlare perché sto iniziando oggi a vivere tranquillamente in casa. E quindi, insomma, come dicevo prima, ci sono cose ben più importanti in questo momento a cui pensare. Mi raccomando, io mi auguro che tutti voi stiate rispettando le regole, state a casa, non uscite, fate tutto ciò che vi passa per la testa in casa. Io nei prossimi giorni cercherò di essere un po' più attiva perché mi manca tantissimo la vostra compagnia, mi manca tutto, insomma. E comunque questo bellissimo look l'ho realizzato con i prodotti che ha scelto il mio fidanzato. Io niente, la chiudo qua, vi lascio al video, spero vi piaccia. Un bacio gigante. Questi sono, questi sono tutti i primer viso, questi qui sono i primer occhi, ok? Vai. Direi che questo non si sbaglia. Ok, vai, quindi, primer viso, manca quello occhi. Come si chiama, riesce a dirlo? Sto pensando. Vai, vai, tu scegli tranquillo, io non ti dico niente. Direi che questo va bene. Ok. Quindi i primer siamo a posto, vai. Secondo, terzo caschietto, qui ci sono cipria e bronzer. Scegli la cipria. Questa è quasi finita. No, no, appena comprata. No, è così perché, vedi, è rossata. Ah, hai capito. Quindi quella cipria. Sì. Adesso scegli il bronzer. Scusa, come colpo senza neanche guardarci. Eh, infatti. Sai che ogni volta è che metti, no, questa è una cipria. Metti le mani nella mia make-up con lei. No, è bronzer, cioè questo, questo, questa è una terra fredda, cioè terra per il contouring, oppure c'è questo, no, non ti devo dire niente però. Direi questo. Ok. Dai, chiudilo però. Quindi come bronzer quella, quindi cipria e bronzer ok. Ma te lascia. Eh sì, la mia amica. Qui ci sono blush, tutti blush e tutti gli illuminanti. Anche questi sono dei blush. No, uno solo. Scusa. Ci piace però, eh? Le cose difficili. Eh sì, una tacchina. E' bello che me le metti anche sposte. Vai l'illuminante. Che ridere. Che ridere. Che ridere. Mi piace questo. Eh beh, socia. ok quindi illuminanti e blush ci siamo qui ci sono mascara, matite e occhi eyeliner questi qua sono due eyeliner e sopracciglia e qui ci sono due glitterini che non so perché siano lì quello è un primer il bt se vuoi che lo usino il mascara però non lo aprire perché se il mascara questo mi piace la confezione perché se lo chiedi bene e poi si secca ci sono le matite e occhi quale? quale? fai vedere ah quella di MAC eye line su c'è che delicato eh sì eh hai sporcato? sì l'hai sporcato mi sono sporcato io ecco qua anche quasi finito vabbè vai vai niente e sopracciglia però sì ci piace questo un po' estivo vabbè dai ma ci piace lo stesso perché devi dare il contrasto della primavera ma scusami la sopracciglia non posso farla solo con quella però quella è solo una cosa illuminante ci vuole una matitina con un gel no quella è l'eyeliner bravo ci manca il gel ma anche se ho quattro pelacchi se il gel mi fa un po' schifo comunque cosa? lo vediamo qua no amore questo non è il gel per sopracciglia no ma se vuoi che lo usi lo uso no 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 dov'è il gel? eh sono sempre qua amore sono dei piccoli mascherini per le sopracciglia hai capito che si fregano questi qua direi sempre MAC vai ok qui ci sono i fondotinta e correttori ma che ci vuole due e mezzo questo lavoro qui? cioè io pensavo due secondi MAC ok che colore hai scelto? ho fatto solo per curiosità no vabbè dai è lì la difficoltà fondotinta si ok amore è un fondotinta non un vento sto guardando mi piace di questo quindi cambio palette viso vediamo se sei quasi la mia preferita questa è nuova no non è nuova sono io che tengo le pellicole non è veniva qua perché non riesco a inquadrarti no questo così lo metti a posto a te ah hai scelto quella? grande no non metterle in piedi che si cade se non dovrei riportare no setting spray devi scegliere tra quelli lì in fondo direi che questo ce n'è poco quindi è molto richiesto bene perfetto ah qua ti voglio il palette viso non sbattele che sono delicate ah so ciao so ciao questi sono belli però cacchio ho fatto tutto marrone bravo amore ma ne hai aperte giusto due o tre? si si no ma perché dovrei anche andare via ok va bene dai dovrei uscire ma riesco perché non è che vado a divertirmi voi che usi ciglia finte ombretti glitter glitterini lì ci sono anche le ombretti singoli quelli liquidi no direi che ci possiamo fermare qua oggi ok allora scegli il rossetto labbra dai vai torna su qui hai anche questi guarda qui ci sono le macchie no no ma guarda guardo questi anche qua dietro ci sono non aprirli more perché alcuni sono chiusi ah cioè i rossetti li puoi aprire devo trovarlo perché non è che si riesce a capire il colore ti piace direi chiaramente sul rosso no il rosso ma succia amore vabbè dai scelghi tu quindi esatto o Turtle giù è che hai scelto il mio preferito giuro Ehi la, ha scelto Saltri Move, grazie, quindi è a posto? Sì Ok, yeee E quindi ecco tutti i prodottini che ha scelto il mio fidanzato, li ho messi in questa scatolina Vado a prendere subito il primer, devo dire che è stato troppo semplice per lui fare questa cosa Come primer ha scelto lo Smashbox, questo è un siero super idratante, mi sta piacendo un sacco Quindi adesso io lo vado ad applicare Comunque, ballare ciance, prendiamo il fondotinta Come fondotinta ha scelto il Bounce di Beauty Blender È un'ottima fondotinta, a me piace un sacco, ha la chiusura qui di sicurezza Io adesso riuscirò a rompermi altre unghie, tanto ormai queste qua a sera non ci arriveranno Ed è super... L'ho schizzato sulla softbox Bene Che genio Comunque, vado ad applicarlo E sono sempre in compagno di questo amico qui Il colore è perfettamente il mio, questo qui nella colorazione non lo trovo più 3.10C E di questo fondotinta ne basta veramente poco perché se si esagera fa un effetto cakey che è terribile Quindi bisogna andarci con molta calma Una volta steso è stupendo Certo non ha una coprenza chissà cosa però a me va bene così Poi prendo il correttore E' stato bravo però ha scelto... ma cos'è qua? Cioè mi ha preso anche il primer labbra non ci credo Come correttore mi ha preso il pennino il prep and prime di MAC nella colorazione dark Se avesse preso un bright forecast sarebbe stato perfetto Comunque vabbè ce lo faremo andare bene Questo qui è un po' più scuro quindi ci devo stare molto attenta e ci andrò molto delicata Parca miseria perché non l'hai preso il bright forecast Prendo un pennellino Infatti è anche più scuro del fondotinta Che belle cose E' troppo scuro Sulla cipria l'ha avuta troppo facile Ha scelto la Studio Fix Perfecting Powder di MAC nella colorazione light plus Mi conosce troppo bene porca miseria Non devo più farvi vedere quando mi trucco da lui Comunque vado a fissare il mio fondo La prima la sistemata E sto usando un pennello sempre di MAC Questo è il 130S Comunque tornare a fare video è stranissimo Perché veramente ne ho passate di tutti i colori in questi ultimi mesi Quindi cioè fai fatica a parlare Comunque devi riconnetterti con le cose Ritornare nella modalità videocamera Quindi parli con videocamera E' difficilissimo Però dai adesso ci mettiamo in sella e via Si ricomincia Allora andiamo avanti Procediamo subito Vado avanti con la base Si dai Per quanto riguarda la palette per il contouring Ha scelto la colorazione giusta Perché io queste qui le ho entrambe L'altra è la bomb beige credo Si Comunque ha scelto per me la Studio Fix Scut and Shape Contour Palette di MAC Meravigliosa Le polveri sono stupende Sono veramente una cosa incredibile Quindi adesso prendo il mio pennellino di Zoeva Questo qui è il 127 E faccio un mix tra queste due polveri qui Per fare il mio contouring Ok Poi visto che abbiamo questa palettina Vado con tantissima calma a prendere questa cialdina un po' più giallina Vediamo se riusciamo a coprire un po' Ma veramente con dosi minime Vediamo se riusciamo ad illuminare Va un po' meglio no E questo qui invece è di Nabla È il Bone Mine Brush L'unica cosa sono pesantissimi Questi pennelli sono Cioè da tenere Che noia Troppo noia Ok Come bronzer e come blush Questi due mini palettine di Natasha Denona E qui ci sono in realtà anche degli illuminanti Allora come blush ha scelto questa qui È la mini Diamond and Glow Con questo blush che in realtà Non è che mi faccia così impazzire Perché è molto luminoso Quindi voglio andarci Con calma Devo magari aggiusto con il bronzer Per quello metto prima il blush Perché questo blush Non mi sfarfuglia tanto Troppo rosato per i miei gusti E troppo brillantinato Per farvi capire Questo è lo swatch Provo a farlo un po' più Cioè È molto rosato Molto luminoso Non è proprio Tra i miei preferiti Però vabbè Troppo Non mi piace Ok A questo punto vado a prendere il bronzer Questa qui è la mini Bronze and Glow Sempre di Natasha Denona Questo bronzer è la figlia del mondo Questo è bellissimo Però lo voglio mettere Con questo pennello di Jelly Neal per Morphe E lo JH02 È più grande il pennello della palette Va bene E vado A darmi un po' di Colore Questo pennello Lo adoro Perché in tre secondi Ho sfumato tutto il viso Praticamente Vado a prendere Il primer occhi Questo qui È il Pro Longwear Paint Pot Della colorazione Laylow È tra i miei primer occhi preferiti Lo stendo con un pennello A lingua di gatto Poi lo prendo anche con la punta Lo metto anche qui Nella rima inferiore Vado a fare velocemente Le sopracciglia Mi fa morire Perché ha scelto anche Il pettino illuminante Di Benefit Light Brow È molto estivo Però vabbè Si vede che mi va Il mood estivo oggi Comunque Sono molto contenta Perché ha scelto La matita sopracciglia Di Anastasia Beverly Hills Nella colorazione Dark Brown È il gel fissante Di MAC Questo qui è trasparente Quindi adesso Vado giusto a riempire I miei buchetti Cioè vado a ricoprire Il tatuaggio praticamente Perché ancora Non l'ho ripassato Di solito questo è uno step Che non registro mai Perché tanto c'è il tatuaggio Quindi non è che io faccia Chissà che cosa Questa matita la sto amando E già Ok Ciglia fatte Vado a fissarle Con il mio mascara Di MAC Giusto i quattro peletti Solid e sfigati Che ho Non i pettino un po' Almeno stanno lì fermi Allora Ha scelto ovviamente Una palette di MAC Questa qui È la Nude Model Fra le mie palette occhi Preferite al mondo Perché hanno una formula stupenda Si sfumano da Dio E la cosa che mi ha fatta Più innamorare di queste palette C'è È che non c'è Un minimo di polverosità Allora Cosa facciamo Non vorrei usare Gli stessi colori soliti Però Visto che qua abbiamo Qualcosa di rosa Direi che andiamo Per forza Da questo lato qui Prendo Questo qui Più chiaro Che lo uso Come colore di transizione E questo qui È un Morphe Numero M441 Poi prendo Questo violetto Qua Cambio pennello Ne prendo uno Un po' più Piccolino Prendo Il Morphe M433 Vado A metterlo Nell'angolo esterno Del mio Occhietto Poi prendo Uno Più a penna Questo è L'M506 Sempre con lo stesso colore Poi riprendo Ah Brava Il pennello di prima E sfumo bene Ok Adesso vado Con il mio Ditino Monco Senza unghia Prendo questo Scimmerino qui E lo metto Su quasi Tutta la mia Palpebra Mobile Ok Faccio Velocemente Anche la parte Inferiore Con gli stessi Colori Prendo il colore Più scuro Questo qui Per Intensificare Un po' Qui L'Ambara D'ambara Perché Voglio un po' Di tridimensionalità Non riesco a capire Se quelle luci Si veda bene Non lo so Me lo auguro Comunque Direi di passare All'eyeliner E sono un po' Delusa Perché ha scelto L'eyeliner Di Huda Beauty Questo qui È appunto Il Lifeliner La matita È atomica L'eyeliner È terribile Infatti L'altro ieri Ho provato a usarlo Ed era secco Però Si è seccato Completamente Io non riesco A fare Un oligno Di eyeliner No ragazzi Bocciare L'avevo già bocciato Ma così L'ho usato Veranamente Tre volte Questa sarà La quarta Niente Mi sto già nervosendo Ormai Questo qui Si è anche Asciugato E non Riesco A Lavorarlo Che flop Madonna Che flop C'è Riesco a lavorarci su Provo a mettermi Subito la matita Mi sto agitando Questa qui È di MAC È della Edizione natalizia Questa è Nella colorazione Engraved Sto cercando Di sfumare Un po' Con la matita Almeno Cioè Riesco a fare Qualcosa di Più decente Perché ormai Qui c'è tutto asciugato Ed è Un delirio Andarci su Che vergogna Non ce la posso fare Oggi Niente Non Non ce la posso Assolutamente fare Chiamo Lo spray Fissante E qui È stato bravo Perché ha scelto Il fix plus Al cocco Perché l'ha visto vuoto Ha detto Ah questo Se vuoto Vuol dire Che è buono Ok Comunque Passiamo alle cose Belle della vita Ovvero L'illuminante Dove sei Eccolo qui E ha scelto Per questo bel trucco Sui toni Del rosa Con il blush Rosato Un bel Illuminante Bello scuro Questo qui Fa sempre parte Della collezione Natalizia Mettimela fuoco Ed è stupendo Penso di non averlo Mottilizzato Perché mi spiaceva Rompere queste stelline Stupende Questo qui Secondo me Quest'estate Quando sarò un po' Abbronzata Sarà Eccezionale Non mi piace per niente Questo accorzamento Di colori Troppo Scuro Troppo Casino Allora Mascara Come mascara Ha scelto Il My Toy Boy Di Diego Dalla Palma Perché ha detto Che gli piace la forma Comunque anche questo È un mascara Stupendo Bellissimo Altra concept Comunque che non ha avuto Che non ha voluto fare Divertentissimo Ci sta tutto E poi anche Piace Io Voglio toccare Su un rossetto Io invece devo dire Che è stato molto bravo Perché ha scelto Salto e muovo Che è un powder kiss Lipstick Nella confezione Quella un po' Soft touch Insomma Per intenderci Ed è questo Nude Stratosferico È la fine Del mondo Non c'entra niente Col trucco Occhi Non me lo ricordavo così Oh Maria E quindi direi Che così Chiudiamo il video Grazie al cielo E mi raccomando Continuate a rimanere a casa Continuiamo Dobbiamo resistere Non ci hanno chiesto Ad andare al fronte Mi raccomando Cerchiamo di pensare Alle persone Che in questo momento Sono all'ospedale Che sono fuori Alle commesse Che sono in supermercati A venderci Del cibo Quindi mi raccomando Tutti 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 Dobbiamo assolutamente Rispettare Tutte le regole Io vi mando un bacio Iper mega gigante Anzi Ancora più gigante Di sempre Vi mando un abbraccio Anche fortissimo E se vi va Seguitemi su Instagram Vi lascio Il mio nickname Qui sotto Nell'info box Tutti i prodotti Cercherò di metterli Nell'info box Anche loro Seguitemi Iscrivetevi al canale Insomma Cercherò di riempirvi Di video Dal più Desilarante Non lo so Mi inventerò qualcosa Per farmi compagnia In questi giorni Insomma Ciao ciao